Sarebbe in arrivo emanato dal ministro dello sviluppo economico, di concerto con la salute e l'economia, uno dei più importanti decreti attuativi della legge 24 2017 sulla sicurezza delle cure, la cosiddetta legge Gelli, che regolamenta le polizie assicurative. Il decreto arriva con un ritardo di due anni sulla tabella di marcia, ma sulla bozza in circolazione la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, mostra perplessità. Proprio su questo tema il presidente FNOMCEO Filippo Anelli aveva richiesto a Roberto Speranza, all'atto della sua nomina ministro della salute, di convocare le professioni sanitarie per impostare insieme ai professionisti e cittadini una politica di sostegno al Servizio Sanitario Nazionale. Favorevoli all'apertura di un tavolo di confronto, la FIMG, la Nao Assomed e il presidente del patto per la professione medica, Guido Quici, per i quali è fondamentale che i medici siano coinvolti in una materia come quella dell'obbligo assicurativo che interesserà così da vicino la loro professione.